Prende il via alla vaccinazione dei bambini tra i 5 anni di età e gli 11 anni di età. Dove vi starete giustamente chiedendo? Ebbene in Israele si parte proprio martedì, che vi ricordo sarà il 23 novembre 2021, a vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età per quanto riguarda il Covid-19. Nel nostro paese in Italia si aspetta la decisione da parte del Lema per giovedì, che sarà il 25 novembre 2021. Dunque in Israele diciamo che il via alla vaccinazione prenderà ufficialmente il via martedì e coinvolgerà i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età di vita. Una scelta forse drastica, una scelta forse importante, una scelta forse che ha delle incredibili, eppure Israele è uno di quei paesi dove le vaccinazioni avvengono con una maggiore frequenza, secondo la mia opinione, sia ben chiaro. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi al canale con il narratore italiano, commentate. Ciao a tutti.